Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui a portarvi uno scud builder che mi avete richiesto di brutto cioè una squadra bronzo, la migliore, una delle migliori squadre bronzo che si possono fare su questo gioco è stato difficile ma alla fine ce l'ho fatta, trovare la squadra bronzo forse con cui mi sono trovato maggiormente bene con dei giocatori veramente ottimi che stanno benissimo insieme quindi partiamo subito dal presupposto che la squadra costa circa sui 30.000 credit, qualcosa del genere che più o che meno non lo so, però comunque sia rende veramente tantissimo io in tre partite che ho fatto ho preso un solo gol, visto che la difesa è fortissima e ho fatto veramente una caterva di gol quindi partiamo subito, mettiamo qualità bronzo e intanto mettiamo qui il campionato, no vabbè il campionato no l'EMPS non importa, potete utilizzare come dico sempre qualsiasi portiere bronzo della MLS statunitense ottimo portiere, buona velocità, ottimi valori di tuffo e riflesso, buonanotte quindi secondo me è davvero un ottimo portiere anche molto alto poi i due centrali è una squadra molto split, a me non mi fanno impazzire però comunque sia se volete il meglio del meglio eccola qui Wynn, che tra l'altro ho visto che è uscita anche la versione terzino destro comunque Wynn, difensore centrale, il migliore del gioco sicuramente con work rate pazzesco, velocità incredibile, statistiche di difese fisico mostruose tra l'altro mi accorgo adesso che è 1.75, non ci avevo mai fatto caso quindi potrebbe essere un problema per i colpi di testa, anche se comunque non ho preso nessun gol di testa quindi state tranquilli poi il suo compagno di reparto, senza dubbio il mitico Jean-Baptiste che è veramente un fenomeno, fa dei recuperi difensivi secondo me strepitosi davvero un grandissimo giocatore con questi due difensori centrali state tranquilli che non subite quasi mai azioni si può dire poi andiamo sulla destra, troviamo come terzino ho utilizzato Zephané del Lione un buon terzino, ero un po' scettico visto il suo fisico e il valore di difesa un po' bassino però devo dire che è un buon giocatore, niente di che, ma comunque è un discreto giocatore che tra l'altro mi ha fatto anche un assist mentre come terzino sinistro ho utilizzato questo qui Park Yi Chul, coreano, davvero molto veloce, con statistiche buone di difesa o molto molto buone di fisico tra l'altro ha work rate normale alto, quindi non sale più di tanto ad attaccare lo fa fare a chi lo fa meglio, ecco, come l'esterno e comunque ha un ottimo fisico e difende veramente molto bene poi, centrocampo, CC di destra, ha utilizzato Tolisso, davvero un gran giocatore mi ricorda molto un Yaya Tour e bronzo, perché davvero ha delle statistiche impressionanti peccato che ha un tiro un po' bassino e se avesse almeno 60 di tiro sarebbe forse il centrocampista centrale più forte del gioco ovviamente parlando sempre di bronzo mi ha fatto un assist in tre partite mentre il suo compagno di reparto sulla sinistra è Choi Untae che è un giocatore che ho trattato tantissimo nei vari anni di FIFA l'ho utilizzato anche in bestie nascoste quest'anno quindi saprete di chi parlo è davvero un giocatore formidabile che se avesse una velocità maggiore sarebbe fortissimo perché ha un tiro che è qualcosa di allucinante un tiro dalla distanza potentissimo poi esterno di destra ho utilizzato Plea che è questo giocatore esterno molto buono con un tiro veramente altissimo mi ha fatto un longshot bellissimo peccato che non ha tantissima velocità però comunque sia, secondo me rende benissimo questo giocatore ha un ottimo dribbling quindi secondo me sì, ci sta tranquillamente poi esterno di sinistra io ho utilizzato Wang Il Su Wang Il Su, questo tizio qui che mi ha fatto un gol davvero un buon giocatore devo dire, alto alto di work rate se avesse magari medio di work rate di difesa sarebbe meglio però comunque sia, non si sente neanche tanto velocità giusta, discreta secondo me è anche un discreto tiro perché mi sono trovato abbastanza bene sembra più di 51 e anche un ottimo passaggio quindi anche esso è un ottimo giocatore ma concentriamoci maggiormente sui due attaccanti che secondo me formano una coppia perfetta degna del tipo Dumbiai Barbo a destra ho utilizzato Mopei che è davvero ottimo velocità molto alta dribbling molto alto work rate ottimo costo basso tiro veramente incredibile grande finalizzazione in tre partite mi ha fatto tre gole non so se sono proprio cinque assist visto che comunque io l'ho utilizzato tantissimo tempo fa questo giocatore ma rende molto di più secondo me in attacco a uno a due scusate forse mi avrà fatto tipo tre quattro assist comunque un gol a partita e anche un assist a partita a questo punto ve lo garantisce sempre ma ragazzi la perla di questa squadra è senza dubbio l'attaccante di sinistra che è che è che è Kang Soil ragazzi un giocatore incredibile tre partite sei gol quelle altre partite sono derivanti a novembre come vedete la data del primo acquisto che lo utilizzavo in attacco a uno secondo me non rende in attacco a uno molto di più in coppia con per esempio Mopei che mi ha fatto veramente dei danni clamorosi cioè un giocatore che faceva tipo due gol a partita davvero pauroso velocissimo agilissimo dribbling allucinante stavo per dire assassino non so perché 4 stelle abilità workett alto basso quindi attacca sempre un buon passaggio per essere un attaccante quindi fa anche tanti assist ragazzi questo secondo me è l'attaccante perfetto il miglior attaccante bronzo del gioco segnatevelo provatelo perché ne vale veramente la pena provatelo in questa squadra che tanto non costa più di tanto e vi garantisce solo praticamente vittorie come ho detto prima ho preso un solo gol in 3 a 4 partite che ho fatto e ne ho fatti veramente almeno 3 a partita quindi per farvi capire ragazzi la squadra è questa provatela perché non ve ne pentirete assolutamente come sempre vi invito a lasciare un bel like per questa squadra vorrei ricevere 400 mi piace ci stanno di brutto fatemi sapere nei commenti quali sono le squadre che vorrete voi in futuro fatemi appunto sapere perché è importante così inizio a organizzarmi a fare squadre e fatemi sapere cosa ne pensate di questa squadra se la proverete se l'avete provata come vi siete trovati iscrivetevi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga ciao ciao